per farlo bisogna avere un nuovo segnale direzionale che mi consenta di espormi di più su un titolo che merita una maggiore esposizione quindi il tema della piramidazione che è un po' il topic di questo video è molto molto bistrattato io ne ho viste di cotte e di crude nel corso della mia vita finanziaria ma anche di formatore ma anche io sbagliavo all'inizio delle piramidazioni ragazzi è molto facile, la piramide ha una forma che non lascia dubbi ha una base più ampia della punta della cima quindi gioco forza bisogna avere nella prima fase di acquisto un capitale superiore di quello che poi andremo a piramidare questo ci deve mettere nella condizione che poi ovviamente il segnale che noi otteniamo deve essere un segnale corretto il maggior numero delle volte ovviamente all'inizio non si ha molta dimestichezza chiaro? nel senso che si fa l'errore grossolano di dire vabbè, sai che faccio? io entro con Pugo poi se il titolo sale, se il titolo va in una direzione giusta, incremento l'esposizione nulla di sbagliato se non che l'incremento dell'esposizione è il doppio rispetto a quello che è il capitale che io metto al primo ingresso quindi supponiamo che noi vogliamo entrare, faccio degli esempi supponiamo che noi vediamo un titolo e vogliamo entrare con 1000 euro a 10 euro il titolo prezza diciamo 9,90 euro mettiamo 1000 euro a 10 euro e 500 euro a 10,20 euro quindi dico che il mio livello di setup è 10 euro arriva il breakout e io entro se il prezzo sale io ho il secondo slot in questo caso ho un prezzo medio di carico minore di 10 euro e 10 in grosso modo ma se io faccio lo scenario opposto allora facciamo così facciamo le cose fatte per bene quindi ho 1000 euro da mettere a 10 euro quindi con 1000 euro se il titolo costa 10 posso comprare 1000 diviso 10, 100 azioni quindi ho 100 azioni a 10 euro più 500 diviso 10,20 più 49 azioni a 10,20 ok? quindi devo fare 1500 diviso 149 vedete com'è? ho un prezzo di carico pari a 10,06 quindi anche se ho piramidato il prezzo è sbilanciato ovviamente verso il livello più basso se dovessi fare l'opposto quindi diciamo beh io entro con 500 quindi entro con poco quindi facciamo 500 diviso 10,50 azioni e poi se la situazione è positiva io ho piramido quindi metto 1000 euro a 10,20 quindi capite bene che ho 50 più 98 o meglio 1500 diviso 50 più 98 quindi vedete come il prezzo medio di carico diventa 10,14 10,13 quindi più sbilanciato verso l'alto ma se il livello di setup era 10 euro perché io devo avere un prezzo medio di carico così elevato quindi mi raccomando quando si tratta di piramidare punto primo ci possono essere diversi diverse situazioni ci sono dei titoli che mi consentono di piramidare subito altri titoli invece che mi consentono di piramidare nel tempo quindi ciò che dovete fare è non avere fretta di esporvi troppo perché ricordate che la notte in cui piramidate voi state dando un grosso peso a quel titolo sul vostro portafoglio io spero, penso che insomma quindi non bisogna piramidare ecco vi do alcune regole vi do alcune regole che non dovete non dovete cannare non dovete piramidare a ribasso cioè non fate l'errore di confondere uno swing con un momento di piramidazione a me sono un concesso che tutti sappiano intercettare uno swing io ad esempio non uso gli swing intesi come movimenti di ritracciamento su un trend principale però mi piace vedere quei titoli che hanno una forte tendenza e che magari prendono un momento di rifiutamento prima di ripartire nell'eccezione comune lo swing è un qualcosa di rapido magari nel trading multi day anche ma considerate bene che un conto è vero uno swing nel trading multi day un conto è vero uno swing su un quadro tecnico settimanale sono due approcci molto molto diversi quindi prima regola non cannate le piramidazioni piramidate se il titolo va nel verso in cui volete piramidare se voi volete comprare avete bisogno di un segnale di forza se voi volete comprare avete bisogno di un segnale di forza se voi volete vendere avete bisogno di un segnale di debolezza mi sembra un concetto difficile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti